Venerdì 11 novembre presso il centro commerciale Le Due Torri si è tenuta la festa, se vogliamo così chiamarla della Fisi Bergamo, dove si sono premiate le varie rappresentanze giovanili delle categorie della stagione appena corso, delle categorie ovviamente dello sci di fondo e anche dello sci alpino. Sono stati praticamente premiati tutti i ragazzi che hanno vinto la medaglia di campione provinciale delle varie ovviamente categorie, ma anche chi ha ottenuto risultati a livello regionale. La serata condotta da Claudio Chiari con il presidente Fausto Denti della Fisi di Bergamo a fare gli onori di casa c'era anche l'assessore allo sport regionale Lara Magoni. Sono stati premiati i ragazzi per lo sci alpino Elisa Riccardi, Simone Mondioli, Marta Terranova, Luca Seghezzi, Mattia Cagnoni, Linda Rizzi, Simone Migliorati, Francesca Zanetti e Pietro Scesa. Per il fondo invece sono stati premiati Elisa Bonacorsi, Manuel Pegurri, Serena Bigoni, Tommaso Santos, Lara Balduzzi, Lorenzo Monaldi, Silvia Santos e Stefano Episse. Particolamente simpatico poi c'è stato il momento in cui sono stati invitati sul parco per ogni categoria, anche negli ultimi classificati, però sempre presenti in tutte le gare. Andiamo ora a sentire nell'intervista con Claudio Chiari, alla fine della manifestazione, il presidente della Fisi Bergamo, Fausto Denti, che ci prepara un po' anche alla nuova stagione. Fausto Denti, le due torri ci riaccoglie dopo due anni, è stata una lunga attesa, bello però ritrovare tutti questi giovani campioni, festa degli atleti, che chiude la passata stagione e apre quella nuova. Esatto, apriamo la nuova stagione, una bella serata, una bella serata con tanto estusiasmo, con tanti ragazzi, che sappiamo benissimo quanto valore hanno questi ragazzi, con i grandi risultati che hanno e col grande impegno che ci mettono a fare questo sport, che è uno sport di sacrificio. La nuova stagione, come già detto, si apre con tanti eventi in provincia di Bergamo, come sempre da campionati italiani, il solito circuito provinciale, campionati regionali, andiamo in tonale a fare campionati regionali di ski cross, che sono stati assegnati a un nostro club, il club Selvino, andiamo sempre in tonale a fare le gare di velocità in attesa che Colere finalmente riapra, purtroppo non questa stagione, ma la successiva e dove finalmente potremo nuovamente allenarci in casa. E poi c'è una grandissima notizia, la possiamo anche dare, perché è una notizia mondiale. Sì, ci siamo candidati ai mondiali junior, al momento risultiamo gli unici candidati per il 2025, vediamo se la FIS ce li darà. Per lo sci di fondo. E' lo sci di fondo junior, però non dimentichiamo che lo junior vuol dire avere qua i giovani più importanti del mondo e quindi questo è anche una bella vetrina che Bergamo saprà dare a tutto il mondo. Settimana caldissima per quanto riguarda il calcio locale, dilettantistico, saltano tre panchine in eccellenza girone B, la vertovese saluta mister Maffeis, al suo posto sembra arrivare Marco Bollisi. Il Val Calepio invece saluta, avanza, annuncia Bertoncelli, ex Scanzo Rosciate e Forza Costanza sulla propria panchina, mentre la Cisanese a sorpresa esonna la mister Sala e chiama sulla sua panchina Cavalli, ex Olginatese. Per quanto riguarda i risultati di Coppa Italia e soprattutto per quanto riguarda l'eccellenza, si sono giocati tre dei quarti di finale, Scanzo Rosciate, Leone 0-3, Casta e Brescia, Ciliverghe 2-1 e Trizion e Vogherese finita ai calci di rigore con la vittoria per 4-2 della Trizion dopo che è stata raggiunta al 95. Le squadre vincenti approdono le semifinali e aspettano il turno di questa sera tra Vergiatese e Magenta. Ricordiamo anche il risultato della Coppa di Lombardia per quanto riguarda la prima categoria. Il Pianico accede ai sedicesimi di finale, è stato spettatore nella partita tra Gorle e Villongo, vinta dal Villongo per 3-2 ma alla formazione del Villongo servivano 4 gol di scarto per accedere a lui nelle fasi finali. Il Pianico dunque attende probabilmente il Loreto per proseguire questa avventura in Coppa che ricordiamo può portare al salto di categoria. Il Pianico